Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti tipo batticuore. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, cacao amaro, zucchero, burro, cioccolato fondente fuso, panna fresca o latte intero, sale e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 4. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il cioccolato fondente fuso e il cacao amaro ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. aggiungere la panna ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la farina, la fecola di patate, il sale e la vanillina. ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4. formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. abbiamo ripreso l'impasto dal frigo e adesso stendiamolo tra due fogli di carta da forno. con una formina a forma di cuore ritagliamo i nostri biscotti e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. dopo aver formato tutti i biscotti cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-15 minuti circa. i biscotti sono cotti lasciamoli intiepidire prima di rimuoverli dalla teglia. biscotti tipo batticuore grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti. 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 Grazie.